La riabilitazione psichiatrica è quella psicosociale, due facce della stessa medaglia. Di ciò si è occupato il congresso della Società Italiana di Psichiatria che si è svolto a Catanzaro. Il congresso è particolarmente importante perché affronta un tema che è quello della riabilitazione psichiatrica che qualche volta viene poco conosciuto anche dagli stessi operatori. Il punto centrale del discorso riguarda il fatto che la riabilitazione psichiatrica è il grande contenitore di tutta la cura psichiatrica. Quindi non va pensata, anche la gente comune dovrebbe pensarla non come l'effetto finale dopo il trattamento farmacologico e dopo il trattamento psicoterapeutico ma come un grande contenitore che serve per rimettere il paziente all'interno della società con un funzionamento sociale accettabile e con una capacità di autodeterminare il proprio destino. La scienza medica in questa fase è quindi impegnata nell'integrazione del paziente psichiatrico la cui patologia più di altre è causa di un vero e proprio stigma sociale. Il problema della psichiatria è che è una disciplina, è una malattia che ha il difetto di stigmatizzare le persone che ne sono affette. Allora questo è un grossissimo ostacolo per l'integrazione nella società, cioè un malato di tumore si integra, non ha problemi. Un malato mentale invece ha grossissimi problemi perché c'è molto pregiudizio, c'è molta paura.